adesso andiamo la il cocodrillo verde la doppia c il coach kai ma ragazzi bentornati sul canale bentornati oggi sono veramente contento ebbene sì ragazzi oggi facciamo una creciata una pazzata una cosa da pazzi scatenati andremo a fare bagno ghiacciato questo lo vedete già al pre workout quindi avrò la caffeina o anche i dons c'è tutto oggi c'è tutto ma noi ci vediamo dall'altra parte hey bro is that jambo? what is that stage for us? kickin' up all the rest yeah we could be superstars but I'm pretty sure our time is up presentiamo lo special guest eh hey damn ciao ragazzi ragazzi siamo al pria ah si sta bene cazzo si sta bene c'è il sole c'è anche vento ma non importa siamo pronti siamo gasati e adesso andiamo la parla per te parla per te io me la sto chill bei manzoni bei manzoni dove entriamo qua? ah che bello che sei bei manzoni cosa hai sentito qua? 13 gennaio buoti vibimi buoti vibimi 14 e 30 il nuovo là 32 , ok 3,2,1 controllate il respiro dodo l'annozzi provate a toccarvi le braccia la sensazione è strana quanto? un minuto addio ciao Bat bravo bravi tutti se volete venire al sole qua c'è spazio ma io vado al sole asciutto adesso però non troppo male dai flex per la camera due minuti due minuti già così? noi vogliamo Priapark coach vieni qua vieni a soffrire vieni a soffrire cosa vuoi? video? fai il video i video dei ragazzi vieni al mollo priapark è il grissio qua con le ciabatte fratello però avevo il sole in faccia vieni a fare video managlia la morte ma quanto tempo siamo dentro? 3 minuti mi hai detto vicino ai miei bloc fai fa questa foto però fa questa foto fa la foto se no che cazzo dentro? guarda le gambe male tu sei rientrato e gli hai detto a luke oh questo video questo video mi hai detto vieni a fare i balli giga sacco sei contro la luce ovviamente quindi si vede poco l'hai preso che come l'ho schivato riflessi da gatto riflessi da gatto dai se ce l'ho tirato bene il bagno è fatto come vedete il sole sta andando giù quindi bisogna sbrigarci adesso ci teletrasportiamo al parco benvenuti su parkvibes l'unica serie calistenica che prenderà il controllo di ogni parco sulla faccia della della terra siamo a? siamo a vicenza vicenza city zona vicentina ci sono belli caldi adesso ci scaldiamo e poi partiamo la merenda real parkvibes con cos'è? sono scammorzina affumicata gica sacco eh si eh si ne sa ne sa ne sa ne sa ma ci vedete ci vedete instant ci vedete 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 Grazie a tutti Opa Quando la tipa ti dice vai più profondo È gigantesca Adesso ti faccio tipo una trazia ultra wide là sopra Hola Average trazione del manzo Oh yes, 2 vai Massimo Full rom di 6 centimetri e mezzo Manza c'è la ripresa completa di lui che skill e tu che fai i fail Hai rovinato la ripresa Siete tutti qua insieme No, 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 no Grazie a tutti.